buonasera anna passanisi e peppe di mauro qui alla scelocco per presentare e promuovere una novità del centro scelocco di augusta un laboratorio di teatro e percussioni dedicato ai più piccolini proprio alla fascia dai 4 ai 7 8 anni un'età all'insegna della scoperta e degli stimoli e a questa fascia di età vogliamo dedicare una nostra collaborazione per la prima volta collaboreremo proponendo proprio agli allievi un laboratorio in cui le due arti la musica e il teatro si contaminano si solleticano in che modo il teatro attraverso la tecnica della fabulazione dunque la favola con i suoi personaggi la natura il mondo degli animali che sono grande stimolo per i piccolini e la musica scusami peppe la musica attraverso le percussioni peppe è il fondatore della piccola accademia delle percussioni metterà appunto la sua competenza al servizio di questo laboratorio io la mia per quel che riguarda il teatro favorendo in particolar modo privilegiando l'aspetto gestuale quindi l'espressione corporea il tutto intorno ad una parola magica che è il ritmo il ritmo inteso come possibilità di entrare in equilibrio armonico con il mondo quindi una cosa che tanto che è tanto importante per i piccoli ma anche per i grandi la possibilità di armonizzare il proprio mondo interiore i propri panorami interiori con il panorama esterno con quello che ci circonda col mondo spesso frenetico e il ritmo quindi è veramente la base del nostro del nostro lavoro e si comincerà anche con questo laboratorio in ottobre con un incontro settimanale di un'ora e talvolta ci vedremo insieme io e peppe lavoreremo insieme con i bimbi talvolta separatamente per insomma sperimentare questo questo connubio questa collaborazione